Una start-up per mettere in contatto studenti universitari, neolaureati con i professionisti. Quando e come avete iniziato? Allora Marta, abbiamo iniziato per soddisfare un bisogno. C'è quello di offrire un servizio di orientamento professionale rivolto a tutti gli studenti e neolaureati di determinate facoltà in modo tale da ricevere consigli e feedback utili per il loro futuro professionale. In tal modo i professionisti possono fornire in ottica di feedback agli studenti determinati consigli per indirizzare la loro carriera perché molto spesso, come sappiamo, nelle università adesso non ci sono degli uffici dedicati a questo tipo di servizio e in tal modo gli studenti possono entrare in rapporto diretto, one to one con professional di determinati settori affinché essi possano capire realmente cosa vogliono fare dopo la laurea. Quest'idea è nata dopo uno scambio di opinioni insieme al mio socio, nonché collega, Giuseppe Basta entrambi lavoriamo in una società di consulenza che è EY Ernst & Young e in pratica ci siamo accorti che entrambi avevamo avuto le stesse problematiche nel post laurea per capire cosa bisognava fare e pertanto siccome eravamo impegnati entrambi nel sociale abbiamo pensato di mettere su questa iniziativa in modo da aiutare i giovani e non facendo in modo che essi non si disperdano. E quali risultati avete raggiunto fino ad oggi? Il lancio della piattaforma è da soli sette giorni però puoi immaginare che alle spalle c'è un grosso lavoro che è stato fatto sia da parte nostra che da tutto il team operativo e ad oggi abbiamo raggiunto più di 80 coach iscritti sulla piattaforma con più di 50 aziende rappresentate tra cui McKinsey, Ferrero, Vodafone, Price, Ernst & Young quindi l'eccellenza del business world e quindi mi sento di dire che ad oggi siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti.